buon di buon di allora solo le 9 e 5 io sono in queste condizioni con i capelli semi bagnati ancora all'accappatoio alle 9 dovevo essere da culo ma in realtà gli ho smentito spudorata mentre lo sapevo già che alle 9 non ce l'avrei mai fatta però almeno come si dice da noi mi mette un po' il fuoco e quindi lo facevo sbrigare allora perché sono sveglia così presto? oggi è mercoledì 19 perché sono sveglia così presto questo mezzo miracolo ogni tanto accade perché oggi partiamo infatti il tempo fa schifo e noi partiamo andiamo non ve lo dico lo scoprirete quando arriviamo e quindi niente ora io finisco di sistemarmi chiudo la valigia e parto ok ci siamo in partenza chiaramente il ritardissimo perché sono un quarto alle 10 ritardissimo ma va bene così dai va bene così tanto poi sicuramente culo sarà ancora più il ritardo di me quindi partiremo mai cioè allora perché percio eccoci qua siamo sono finalmente in macchina in realtà bugia perché Simo l'ho appena incrociato al bar perché mi ha chiamato che era lì quindi l'ho raggiunto due secondi e niente stiamo andando a casa così lui porta la macchina e questo viaggio lo affronteremo quella mia speriamo bene e niente comunque volevo parlare di una cosa che io no vi giuro non ce la faccio più e spero che qualcuno di voi mi capisca perché io devo trovare una soluzione a questa cosa nel senso che ho dei seri scusate mi sono tirata sugli occhiali ma scusate la mia faccia ma vestirci è una tortura veramente collaudata sto sgrondando vabbè e comunque a parte sono 21-22 gradi nemmeno tantissimi però sto veramente morendo e niente praticamente sono andata a fare la valigia perché sono andata a fare la valigia perché si parte quindi dovevo fare la valigia allora ho capito oggi cioè ieri più che mai il grosso e il vero problema di chi è una nomade come me nel senso che io non so più dove ho i vestiti non so più dove ho vestiti perché allora gran parte cenocchia ce l'ho chiaramente a firenze perché è la mia come dire dimora principale un altro pochi ce l'ho dai miei un altro pochi ce l'ho un altro po di cose tra l'altro non solo vestiti anche scarpe comunque accessorie ce l'ho da simo quindi ho tre armadi e da fare una valigia non so più dove la roba non ho più idea dove ho le cose cioè io non posso di ho perso un paio i pantaloni perché magari ce l'ho in uno degli altri due armadi però non ho il tempo di vivo contro l'altro ti e tre specialmente sai tra casa dei miei e casa di simo ok ma specialmente a firenze è il panico è il panico devo trovare una dimora fissa e rimane lì basta ma non ce la farò mai e no il bello è che ho la residenza da una parte e il domicilio da quell'altra passo un terzo dell'anno a casa di simo cioè io non so più non ho più i punti fissi della vita niente zero dici a casa quale casa no bellissimo mio miglior amico perché mi fa cioè io gli rispondo amore tutto a posto su a casa e lui giustamente mi fa in quale casa hai perfettamente ragioni hai perfettamente ragioni perché per esempio anche quando vado a roma a casa a me mi viene da dire vado a casa però a casa a roma quindi è tutto un po un grosso un grosso problema la mia vita la mia vita è tutto un grosso problema e quindi niente però è scocitato piano però nel senso che ho scaricato delle app quelle per fare il close up dell'armadio e ne ho scaricate tre così faccio il close up ogni app un armadio e così spero di risolvere questo grosso problema almeno mica per tanto per andarla a prendere perché il metodo se so a Firenze è un problema se so qui ando a Firenze è un altro però per almeno di non le ho perse sono lì e prima o poi le recupererò prima o poi quindi niente questo blateramento di quasi 5 minuti per dirvi che sono effettivamente una nomade e il mio fidanzato quando me lo dice mi si chiama ha perfettamente ragione devo essere sincera gli va dato atto che ha ragione io la prendo a ride però lui ha ragione comunque niente partiremo prima o poi sono le 10 e 4 dovevamo partire io avevo preventivato entro le 10 quindi però mi sono visto male di farlo e tra l'altro lo bisogna andare a fare anche un piano ma si ma si ora meno male che lui sia avviato un pochino avanti a me quindi spero che quando arrivo io sia pronto ma non è che proprio ci gererei tanto poi mi è venuto uno sfogo qui io non so che ho fatto ma mi è venuto questo sfogo qui e perfetto preciso tanto quando si parte noi succede sempre il finimondo quindi preciso se sentite qualche uragano qualche parte del mondo qualcosa del genere cioè nel senso che siamo partiti siamo partiti noi quindi qualcosa di eclatante nel mondo deve pur succedere e niente quindi preciso poi stamattina col cavolo che mi sono truccata cioè nel senso troppo sprat per truccarmi stamattina e infatti è fidanzata per me mi sono fatto amore che occhiai grazie carino anche lui anche lui ha dormito un cazzo ha detto beh io peggio di lui perché niente io a zero stanotte non ci ho provato niente alla fine mi sono totalmente rotta le palle di stare lì a provare a dormire che mi sono messa a giocare con il Nintendo DS di quando avevo tipo 12 anni prima ho fatto Animal Crossing che chi ha la mia età se lo ricordo sicuramente perché chi ha avuto il Nintendo DS perché è stato un caldo soprattutto tra le ragazze e poi Super Mario Bros che l'ho finito l'ottantamila volte tipo l'avrò finito e tanto lo rifavo perché mi piace da morire e quindi niente tutto qua tutto qua ora prima o poi partiremo spero di non avervi già spoilerato dove dove vado perché non me lo ricordo cioè vi ho detto che non ve lo dicevo però un po' magari mi distraggo però dico così in un flash quindi spero di non averlo fatto basta vi tolgo questo oddio forse è quello sto vedendo una macchina davanti che potrebbe essere lui che dà l'ottantamila però potrebbe essere lui spero di no perché sennò si arriva contemporaneamente il vantaggio di lui fosse a casa un po' prima e preparava le cose si annulla del tutto comunque ci vediamo dopo vi aggiorno strada facendo beh lì c'è la data che sta non so patata non so facendo che cose esattamente e il verdetto è che noi non partiremo mai mai perché chiaramente come avevo previsto non è pronto manco bevo cazzo mamma mia ora che mi vado avvicino c'è delle occhiei fanno paura paura ho fatto la tinta alle sopracciglia sono un po' oscura non mi dispiace devo essere sincera l'ho comprata la faccia da me quindi ogni tanto la faccio ma non partiremo mai comunque mai mai e poi mai belle faremo questo viaggio a casa comunque vi faccio vedere uno sfogo che mi è venuto da vicino tutto qua questo è un brufolo che avevo un bob che ho tipo da una settimana ma è qui fermo così paralleli chiaro a me ci fa due piercing e questo niente mi è venuto questo sfogo carinissimo così vabbè e niente aspetto e spero che devo fare break barra pausa pranzo con vista c'è la cicchione allora il pilota si è svegliato mi ha dato il cambio perché finora siamo dove siamo? l'ho passato a Lucca passata a Lucca vabbè mancano circa 70 km un po' meno all'arrivo e alla bellezza di quasi l'una dopo che ha mangiato si è svegliato quindi ha deciso così non vado adesso non vado a trovare salite vicinemente ha la stessa voglia di camminare quanto me e quindi prima o poi arriveremo con molta calma non ha capito lui è già proiettato si va in albergo si dorme perché tra tutte le tue si è dormito un cazzo non ha capito niente niente praticamente perché c'è già l'itinerario a tutto fatto che ancora non conosce ma lo conoscerà presto bellissimo allora ce l'abbiamo fatta un'avventura lasciamo perdere quello che è successo per il check-in poi una volta fatto quel che devo fare vi raccomanderò e siamo arrivati in camera ora ve la può vedere senza si sta sfogliando quindi ora ve la faccio vedere senza inquadrare lui oppure si può chiudere dentro l'armadio trovo l'alternativa allora messo all'angolo questo è il bagno adesso io con i miei capelli orribili la dolce è bella la dolce non è male la dolce è bella la dolce è un po' piccola però carina questa è la camera fine della gioia questo è quel deficiente che ha messo il frigobarro nel comodino poi lo riempirà di birra e si ecolizzerà niente qui c'è le piantine finte dell'ikea nostro affezionato ormai le troveremo ovunque qui c'è la mia felicità con il bollitore e le tisane farò tre giorni di tisane basta fine l'armadio la previsione eccetera eccetera c'è anche il portaspep abbiamo scoperto il frigobarro una volta era qui ma ora era nel suo comodino questo è il mio outfit molto sopra in realtà a parte gli orecchini è molto sopra possiamo andare possiamo andare i fichi? di India si amor sembra di stare più a Capri ah io non vi ho ancora detto dove siamo in realtà ora ve l'ho detto allora nella mia sobrietà vi posso dire finalmente dove siamo perché ancora non ve l'ho detto si ora guida lui basta la mia perché deve fare le perlacchie bisogna essere pilota è finito stamattina allora siamo venuti per l'idea sua così quattro giorni tre tre e mezzo alla Spezia in realtà tre e un quarto alla Spezia cioè non sì siamo alla Spezia però se voleva fare il giro delle 5 terre e ora e ora vi racconto questa vi abbraccio perché mi dannoia allora praticamente io ho fatto tutto il programma delle 5 terre dove si vedeva tutto eccetera eccetera è un po' un tour de force e tra l'altro alcune cose l'avevo solo appuntata in notte perché si deve morire per fare tutto quello che volevo fare io lui non gli andava bene e fino a lì ok è stato un quarto d'ora sopra a letto a rimodificare il programma perché succo del discorso dopo un quarto d'ora seduto col telefono si fa il programma avevo deciso io no non si fa il programma sì Simone si fa lo stesso identico programma che ho deciso io aspetta un attimo allora siamo nel momento turisti giapponesi però la vista è veramente mozzafiata c'è un ascensore si ha lodato Gesù Cristo allora questa è la faccia madonna ma ruggine della chiesa non sappiamo ora lo scopriremo luminaria ovunque io ero in un'asta che erano a Salerno in realtà no sono qua e qui siamo nel paesino la prima tappa delle Cinco Terre direi maggiore io teoricamente volevo arrivare qua su che non vedete perché è contro solo allora siamo fermati a fare un aperitivo io ho chiesto un prosecco e mi ha detto ciao a Rosè mi ha dato una bottiglia di prosecco te che hai preso fai dello spritz vabbè lui è uno spritz è abbastanza più sombrio di me cosa fai di altri io sono di plastica te sei di vetro come si fa è un regalo di nostri padri sino a una vai traduscicelo allora terra non è regalo ma che ti dobbiamo fare il contemplatore no comunque c'è una serie di questi tipo ma non so freschi sono murales tipo però sono veramente fighi lungo la via così oh questo è fighissimo ma c'è un comune qui è in municipio è figato anche tutte le scale su un murales gigante questo è proprio un murales non so pannelli voglio questa casa qui con la terrazza qui proprio così in effetti ora ce l'ho come sempre sembra molto essere a capo lo sbronzo di riace in bianco e nero oh micio oh micio ciao micio ciao micio amore un tigrott un tigrott un tigrott amore ciao micio ciao micio ciao micio oh guardano è un tigrott è un tigrott bello cos'è allora vi prego mi sta portando in dei luoghi lo so qui c'è un orto proibiti lui deve toccare il mare però ora se ci casca rido da qui a domand'altro questi sono dei costi meravigliosi qui c'è uno stanzino che voi non vedete lo faccio vedere di eccolo qua così non sappiamo un gabbiano 87.000 scalini no se scrocia in terra non lo pubblico se ti butto in mare guarda baciati dal sole lo so siamo belli siamo belli lo so comunque lì c'è tutta della gente che fa festa non so se lo vedete lì e noi siamo qui a camminare qua a parte ciò allora siamo arrivati qui a Rio Maggiore che è il primo delle 5 terre alle 5 già era tardi però insomma alle 5 siamo arrivati siamo rimasti fino alle 6 al bar a bere cioè più olcolisti di così non ho parlo allora tra pochino prendo il volo io e l'orecchino mi ha fatto fa 87.000 scalini ora te che i capelli una volta erano carini ora lasciano molto a desiderare e tanto si continua a camminare a camminare niente niente la nostra cosa è finissima c'è la striscia nelle scale che devi tenere da destra cioè è finissima questa cosa infatti lui va a sinistra chiaro la cingiamo a fare la via dell'amore non è vero vi ho detto una bugia perchè è temporaneamente chiusa per una frana ma tanto non l'avremo fatta lo stesso perchè è tutto un camminare e già stiamo camminando quel che sta bene però lo so oggi sarà salito con questi 300 scalini che cosa? che è quest'acqua? è acqua? è un bicchiere fighissimo sembra quelli che devi scoppiare queste cose allora come era logico e prevedibile ci è fatto buio chiaro perchè siamo fermati in questo posto che ho ripreso a bere non si è stuzzicato qualcosa comunque io so distrutta perchè lo stronzo qui mi ha fatto camminare praticamente per tutto il paesino in tutto ciò non è che mi lamenta a caso perchè mi diverto a lamentarmi ma in tutto ciò io stanotte ho dormito zero zero ore zero e stamantina ho guidato siamo venuti qua e non mi sono fermata praticamente mai quindi ora o mi porta a stasera ve lo dico qui lo dico e qui lo ribatto o mi porta a mangiare il sushi o lo mollo stasera è la volta buona che lo mollo l'80.000 scalini mi ha fatto scendere salì ovunque e salite infinite 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 no vabbè ragazzi bello bello siamo a Rio Maggiore bello all'andata in discesa ora per ritrovare il parcheggio che è in cima al paese perchè poi è un po' più entra con la macchina si è rifatto tutto il paese all'insù io penso che con la palestra sono posto per i prossimi 24-25 anni buoni ma non ce la posso finita finalmente camera non ce la facevo più non ce la facevo più allora oggi voi avete visto un po' una giornata a spezzoni ma è stata di corsissima allora siamo partiti stamattina ho fatto la doccia ho finito la valigia sono andata a casa da lui siamo partiti ci sono messo in tutto circa quasi tre ore di viaggio una pausa riparati arriva aspetta fai il check in fai il check in andati prendi la camera sistemati fai la valigia muori un attimino scegli che cosa fare parti vai partiti siamo andati a rio maggiore fai tutto il giro sei girato tutto il paesino che è piccolo però tutto a piedi tutto paesino salite così bevi guarda fai finiti cioè considerando che lui ha dormito un'ora e mezzo stanotte io zero cioè io non ho chiuso occhio stanotte mi è suonata la sveglia ero sveglia quindi un delirio totale e quindi niente ora ora niente ci rilassiamo 30 secondi poi andiamo a cena al sushi alle 10 e poi morti penso morti a l'anima Grazie a tutti.